Un riconoscimento che mi riempie di grande soddisfazione perché è l'ulteriore testimonianza dell'impegno di coloro che valorizzano l'entroterra mantenendone intatte le sue qualità. E' con queste parole che il presidente della provincia d'Imperia, Fabio Natta, attraverso una nota ufficiale, commenta la consegna del premio di viticoltore etico a Gianni Massa dell'azienda agricola Il Cascin di Cesio, avvenuta nei giorni scorsi a Verona a Vinitaly, celebre salone internazionale dei vini e dei distillati. Gianni Massa ha ricevuto il premio nello stand della regione Liguria per aver saputo recuperare gli antichi poderi attorno al borgo di Arzeno, frazione di Cesio e della vicina Caravonica e per aver saputo mantenere inalterate le antiche culture legate alla cultiva artaggiasca dell'olivo e al vino. Sono doppiamente felice dell'affermazione di Gianni Massa, ha aggiunto il presidente Fabio Natta come presidente perché questo riconoscimento nobilita il patrimonio umano e territoriale della nostra provincia e come sindaco perché è motivo di grande orgoglio per il comune di Cesio.